Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. Stanno bene i ragazzi che dall'Abruzzo sono partiti alla volta di Strasburgo perché vincitori del concorso indetto dal Movimento per la Vita nelle scuole. Lo riferisce la responsabile del settore giovani del Movimento per la Vita, raccontando che i giovani, al momento dell'attentato che ieri sera ha colpito la città francese al confine con la Germania, che ha provocato la morte di almeno quattro persone e il ferimento di diverse altre, si trovavano in un ristorante piuttosto distante dal centro della città. Rimasti bloccati all'interno del locale, i ragazzi sono poi rientrati in albergo. I giovani sono a Strasburgo proprio per portare i temi legati alla difesa della vita all'interno delle istituzioni europee, temi sui quali hanno riflettuto con i loro lavori a scuola. istituzioni europee, il cui Parlamento si trova proprio a Strasburgo, dove è prevista in questi giorni la presenza proprio da parte di questi giovani. La Baumark Automotive Solutions, azienda leader nel campo della siderurgia, acquisisce lo stabilimento Honeywell di Atessa. Lo riferisce il Ministero per lo Sviluppo Economico, dopo il tavolo conclusivo appunto al Ministero presieduto dal Vice Capo di Gabinetto, Giorgio Sorial, sulla crisi dello stabilimento del Teatino. C'erano anche rappresentanti dell'azienda, della Regione Abruzzo e delle sigle sindacali, FIM CISL, WILM, FIOM e UGL. Il piano industriale dell'azienda cinese sarà strutturato in due fasi, spiega il MISE. La prima consisterà nell'effettuazione di interviste finalizzate al reinserimento lavorativo di 162 lavoratori che saranno assunti con contratto a tempo indeterminato, facendo prima un periodo di prova. La seconda fase consisterà nella realizzazione di un centro di taglio dell'acciaio della superficie di circa 10.000 metri quadri nell'area industriale di Atessa, che alimenterà anche lo stabilimento di Lanciano. L'ammontare totale dell'investimento è pari a 21.850.000 euro, che saranno stanziati nell'arco dei primi 36 mesi dall'avvio dei lavori previsto a febbraio 2019. L'Unione sindacale di base aderisce con forza allo sciopero contro l'ennesimo licenziamento che definisce pretestuoso e legittimo per le modalità con cui è avvenuto e invita tutti i lavoratori a partecipare perché diventa preoccupante, secondo l'Unione sindacale di base, il clima che si sta respirando alla Sevel, fatta di continue contestazioni in particolar modo nei confronti di lavoratori con ridotte capacità lavorative. Lo fa sapere il responsabile dell'ufficio comunicazione dell'USB, Daniele Moretti. Lavorare con i ritmi imposti da Sevel, fa sapere l'Unione sindacale di base, con postazioni di lavoro saturate al 99%, senza il rispetto del mix produttivo, con la decurtazione della pausa, diventa impossibile per i lavoratori a ridotta capacità lavorativa. Ancora più se si tratta di una donna e arrivare ad un licenziamento nei confronti di chi ha problemi fisici perché non riesce a svolgere completamente il proprio lavoro, è un atteggiamento vigliacco che deve avere piena condanna da parte di tutti e la posizione espressa dall'Unione sindacale di base. Attività ridotta per la radioterapia dell'ospedale di Chieti a causa di un guasto alla porta apposta a protezione del bunker che ospita uno degli acceleratori lineari. Le terapie radianti erogate, cioè fornite dall'apparecchio Sinergie Electa, sono state pertanto momentaneamente sospese in attesa della riparazione, già sollecitata la ditta cui è affidata la manutenzione. I trattamenti di radioterapia continuano ad essere assicurati con il secondo acceleratore lineare che però può soddisfare solo parzialmente l'ampia domanda di prestazioni che la radioterapia riceve. Il fermo dell'apparecchiatura resterà fino alla riparazione del guasto per il quale si attende l'arrivo dei tecnici specializzati. Intanto il personale della radioterapia a Tiatina assicura di fare il possibile per limitare al minimo i disagi per i pazienti. avrebbero riciclato e commerciato abusivamente oro in Italia ed Europa. Con questa accusa la Guardia di Finanza di Bologna ha eseguito dieci ordinanze di custodia cautelare, sette in carcere, tre agli arresti domiciliari e numerose perquisizioni locali e personali in Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Basilicata. Nell'ambito dell'operazione denominata Pietra filosofale, sono stati emessi anche quattro mandati di arresto europei in Romania e Turchia. È in corso il sequestro preventivo per equivalente dei beni e delle disponibilità finanziarie degli indagati e delle società loro riconducibili per un ammontare complessivo di 7 milioni 400 mila euro. Violenza sessuale nei confronti di una minorenne, spaccio di stupefacenti, minacce. Sono i reati contestati nel corso delle indagini dei carabinieri che hanno portato all'individuazione di una baby gang a Montesilvano. La banda sarebbe composta da cinque minori, uno dei quali è stato da ultimo arrestato ai domiciliari anche per aver minacciato queste raccuse e picchiato un coetaneo nel tentativo di costringerlo a ritrattare le dichiarazioni contro di lui rese carabinieri e di indurlo a rendere una falsa testimonianza. In tutto sono stati sequestrati 300 grammi di marijuana, 4 grammi di cocaina. L'operazione ha avuto origine nel marzo 2018, quando gli indagati erano tutti minorenni e i carabinieri della compagnia di Montesilvano avevano saputo che un ragazzo aveva minacciato e maltrattato i genitori per motivi di droga. Dall'arresto del giovane i carabinieri sono risaliti al giro dello spaccio fra i minorenni. Hanno fatto spallucce senza motivare il gesto di distruggere una scuola elementare a Lanciano. Due giorni fa ci sono state perquisizioni a casa di ragazzi che hanno portato la polizia a identificare e denunciare per danneggiamento aggravato tre giovani di età compresa tra i 14 e i 16 anni, probabilmente autori della devastazione della scuola elementare di Marcianese avvenuta la sera dello scorso 4 dicembre. Sei giorni esatti di instancabili indagini e risultati scientifici hanno portato alla scoperta e denuncia di dunque alcuni giovani di Lanciano. Cambiamo argomento. Strada dei parchi SPA concessionaria delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25 lancia un appello al Governo nazionale affinché i nuovi rincarichi dei pedaggi che dovrebbero scattare il prossimo primo gennaio, secondo quanto previsto nella convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possano essere scongiurati. In una nota, strada dei parchi del gruppo dell'imprenditore abruzzese Carlo Toto indica la strada nell'approvazione del piano economico finanziario nel quale, tra le altre cose, è prevista la messa in sicurezza sismica strutturale delle arterie, come previsto nella legge di stabilità del 2012 nella quale, dopo il terremoto dell'Aquila del 2009, si sono considerate le due autostrade strategiche in caso di calamità naturali. Problemi di acqua oggi in quattro comuni del pescarese, a preannunciarli l'azienda acquedottistica ACA, indicando orari e zone interessate. I rubinetti resteranno a secco dalle 18 per i lavori di manutenzione del serbatoio Cerverano. Le zone interessate sono nel comune di Pietranico, Contrada, Valle Barone, solo aziende agricola Maiano Massimo, nel comune di Pesco Sansonesco, Contrada De Contra, nel comune di Castiglione a Casauria, Contrada Cervarano. A questi comuni si somma all'anno. In questo caso l'acqua, cioè dall'anno, l'acqua manca dalle 8 alle 18.30, sempre salvo imprevisti, a causa dell'interruzione dell'erogazione idrica del serbatoio Colle Rotondo. Le zone interessate sono Contrada, Colle Rotondo, Parte Bassa, Contrada Sperduto, Via delle Querce, Via Colle Sala, Via delle Tamerici, Via Giovanni XXIII, Via Aldomoro, Via Madonna del Carmine, Via Pennese, appunto a Pesco Sansonesco. Domani ricordiamo l'appuntamento con la lezione divina di avvento che si terrà in serata presso il Santuario della Divina Misericordia e sarà curata dall'Arcivescovo di Pescara Penne, Soccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, proprio nel Santuario che si trova in Piazza Sacro Cuore a Pescara. Lunedì invece alle 16.30 si terrà l'incontro rivolto ai familiari e ai caregiver, cioè a coloro che si prendono cura di pazienti affetti da disturbi cognitivi e demenze, sul tema costruire relazioni serene attraverso l'ascolto attivo con i pazienti affetti da disturbi cognitivi e demenze, con la collaborazione della dottoressa Caterina Di Michele, psicologa, lasciando spazio e interventi, domande e chiarimenti. L'incontro si terrà al Salone Polifunzionale della Biblioteca Regionale di Giampaolo, in Via Tiburtina, angolo via Salaravecchia, numero 97-25. All'inizio di Via Tiburtina, sopra il supermercato, al primo piano, accanto alla sede del quotidiano il centro. Oggi è mercoledì 12 dicembre, la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Marco di Persio. Siamo al meteo, oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo sereno fino a tutto il pomeriggio, poco nuvoloso nelle prime ore della sera, è coperto in tarda serata con temperature da 4 a 9 gradi e venti deboli e nelle zone interne. Cielo sereno fino a metà pomeriggio, nuvoloso nel resto del pomeriggio, è coperto in serata con temperature da 4-8 gradi e venti deboli. Il mare è previsto quasi calmo e con queste previsioni del tempo noi ci salutiamo. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne, a voi tutti grazie e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.